23 dicembre 1984 il rapido 904 proveniente da Napoli e diretto a Milano strapieno di viaggiatori, in gran parte in viaggio per le feste natalizie viene devastato dall'esplosione di una bomba nella galleria di San Benedetto Val di Sambro tutto è stato predisposto perché sia un massacro la data in occasione del Natale, la potenza dell'esplosivo il timer regolato per far esplodere l'ordigno sotto la galleria in coincidenza con il transito di un altro treno nel binario opposto al termine delle operazioni di soccorso si registreranno 15 morti e centinaia di feriti